Hello Bell Guys! Benvenuti in questo nuovo video e finalmente dopo mesi possiamo dire dall'annuncio del video unboxing delle carte su Cartrader finalmente posso caricarvelo dato che ogni volta ho aggiunto varie carte appunto all'interno dell'ordine di conseguenza ho sempre rimandato il caricamento appunto del video. Come vedete il pacco mi è arrivato da poco ancora sigillato appunto con l'adesivo ufficiale di Cartrader Zero. Per chi non lo sa vi faccio una città a Cartrader che è una piattaforma online in cui potete comprare carte singole ma anche prodotti la quale tramite il servizio Cartrader Zero come potete leggere vi permette di risparmiare sulle spese di spedizione nel senso che non pagherete le spedizioni per ogni singolo venditore ma semplicemente soltanto una volta dato che tutte le carte vengono inviate alla sede di Cartrader per l'appunto e voi dovrete pagare soltanto una singola volta la spedizione che sarebbe quella appunto proveniente da Cartrader. Ovviamente se volete maggiori informazioni andate a consultare il mio video guida in merito appunto alla piattaforma che vi lascio qui sopra o qui sotto in descrizione tramite il quale potete anche guadagnare ben 2 euro gratuitamente sul vostro account e caso che doveste avere difficoltà scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti. Comunque sia io con il coltellazzo vado a rimuovere il sigillo e finalmente dopo mesi anche io posso diciamo aprire questo pacchettino se magari riuscissi. Ok abbiamo ordinato ovviamente Cartrader Magic, no sono solo per coprire come al solito. e perché per me questo pacco è molto importante perché allora di base ecco qui magari metto a fuoco grazie di base ci sono alcune carte da collezione ovviamente ma dall'altra parte diciamo mi sblocco un per i video dato che diciamo è vero che ultimamente sono onesto ho portato un sacco ma un sacco di unboxing proprio per il fatto perché stavo attendendo un po' le tech profile nel senso che mi sono diciamo preoccupato di volerle portare più in real che appunto tramite due link book o quel che insomma mi avrebbe fatto appunto piacere portarveli in real di conseguenza tramite quest'ordine come vedete abbastanza massivo come dico io e deve intuire anche un paio di mazzi che arriveranno sul sul canale e soprattutto anche video finalmente in merito a tengo plant quindi decklist oltre quelle che stavo già preparando ma anche eventualmente formato 2014 noi ci prepariamo quindi io probabilmente andrò a spostare ogni singola bustina e poi le vedremo assieme ho cercato diciamo di categorizzare le carte in base al periodo bene o male qualcuna giustamente non si traverà perché ha avuto difficoltà a inserirla però appunto iniziamo con la prima parte un po' più vecchiotta vedete che sono abbastanza carte allora abbiamo ovviamente 3rd dice darkness dragon lui non può mancare in nessun ordine come sapete perché ci deve essere in tutte le versioni una genesi vampira che è una delle carte che più adoro di yugi e infatti il motivo per cui l'ho preso diciamo è che sto cercando di prendere almeno tutti gli starter e penso di averli uccisi diciamo dei starter deck i primi deck appunto i yugi in prima edizione e con rex odora dovrei averli tutti poi attenzione 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 abbiamo un di jean questo cosa significa che uno dei mazzi che arriverà appunto è il mazzo di abbandono abbiamo non uno non due ma tre copie e con questo sapete che uno dei mazzi che voglio portare in assoluto questo è relinquished sia per edison ma allo stesso tempo per tango plant dato che c'è una versione in tango plant che secondo me è decisamente forte dato che sfrutta anche questa carta lì qui che è veramente una bastardata a dir poco ovviamente vabbè vado un po' più veloce e 3 backdition ritual ma abbiamo 3 sorci gold 3 dd crow che non possono mai mancare il terzo cd da dusa perché mi mancava volevo avere appunto il play set e soprattutto quest'ordine a tanto atteso perché finalmente posso portarvi la deck profile dell'ice war nato che abbiamo il gd ma anche i 3 wolf che non avevo e piccolo indizio per le carte di dopo michael chissà perché è una delle carte secondo me più scagate all'interno del formato che secondo me in l'ice war per una versione turbo è veramente fortissima dato che questa qua praticamente vi milla 5 carte gratis dal deck al cimitero quest'altra è una delle carte più sottovalutate all'interno del gioco secondo me ed è utilizzabile anche cos'ho qui all'interno di gozze non sbaglio sì dato che è l'odd e piatti ragazzi questa è una carta fortissima dato che vabbè è un po coin flip letteralmente nel senso che dovrete tirare testo croce ma se diciamo azzecchi diciamo il risultato praticamente vai a rimuovere tutto il cimitero dell'avversario mi pare fosse una cosa del genere sì e invece se sbagliato manderete un numero uguale di carte al cimitero pari al numero delle carte poi presenti nel cimitero dell'avversario mi pare fosse così ho fatto anche un'occhiata veloce però appunto una delle carte più sottovalutate di sempre e poi vabbè arch lord christia che sblocca un po' sia per tango plant appunto con agent ne avevo solo una ma probabilmente continuerò a giocarne solo una nel del mazzo ma per il christiasuono quel che è tre giudizi solenni presi veramente a poco un Darfurler Hades che volevo giocarlo in got ebbene sì sta arrivando anche quello sul canale Discommander questa diciamo l'ho presa dato che mi sono interessato un pochettino a uno dei formati secondo me più interessante che secondo me prende a pieno quello che è yuglio gx che è una delle serie più fighe di yuglio la mia preferita è 5d però obiettivamente il discommander è stato probabilmente il cuore pulsante di gx con il perfect circle come come formato che vorrei studiarmi un pochettino e se riesco porterò una guida sul canale quindi raggiungiamo tot mi piace così mi farete capire che volete quella guida e mi motiva a farlo soprattutto dato che sono complicate da fare vabbè questo l'ho fatto semplicemente perché e sapete come in passato quando eravamo bambini una delle carte più diffuse ma soprattutto più tarocche esistenti al mondo era l'exodia completo che se non sbaglio aveva anche un nome che non posso nemmeno pronunciare qui su youtube per questioni diciamo legati non vorrei sbagliarmi però sì diciamo il motivo principale per cui ho voluto questa carta è questo poi un road warrior dato che in edison è forte il power tool dragon fortissimo con due determinate con una determinata carta all'interno del formato edison poi due darius di nuovo ha 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 la royal oppression gold dato che volevo la la seconda volevo il 2 per questo l'ho pagato un pochettino richiamo di emergenza gigottoms forse fra le common più costose del formato edison mi costerà un 2 euro questa common qui che è praticamente OP contro X saber e potete usarla come side marchio della rosa quindi finalmente posso giocare zombie plant l'arcana force sia da jump che da dual terminal assieme al dark ruler che fu fra le mie carte preferite due paradini del drago maledetto quindi versione di zombie diciamo diversa dal dal solito che sfrutta un po' il zombie world quindi se volete fatelo sapere qui sotto nei commenti ma probabilmente la porterò lo stesso mi fa piacere se appunto siate anche voi a a dirmelo vabbè tre black queen calut il peso in più dato che abbiamo detto ok il mazzo l'ho fatto alla mia ragazza il black queen però volevo averne un altro per sicurezza poi reparto chiro abbiamo un oceano del terminal figo se si vede sì un capitano goldero elementale grattacello ovviamente tre vabbè emergenza comunici schifose esplosione eroica ne ho prese tre per sicurezza giusto per il terraferma assieme ai due nova master un deuloren che appunto questo è un po' la carta che vi dice non sapevo dove piazzarvela e il caser colossium che è una delle carte più OP presente nel formato ma soprattutto per il tengu plant secondo me è veramente rotta come carta per fare il controllo ora passiamo alla seconda fila mettiamolo un po' qui quindi qua siamo proprio pieno 2011 possiamo dire qua è un po' edison goat ora andiamo col 2011 quindi abbiamo i due mac lord scusate di cui due copie una tre gallis secret un loki che l'ho preso più per collezione ma non è prima edizione mannaggia al cavolo quando l'avevo ordinato così quindi vedrò cosa posso fare per ricevere quello in prima edizione quindi che deck vorrò portare? ebbene sì il caro mazzo nordic per il formato tengu plant ora direte eh ma perché non lo porti per edison perché non esisteva semplicemente per quello se no state certi che sarebbe stato una delle deck profile che avrei portato in assoluto subito sul canale perché la mitologia nordica è figa Wotofur è figo scusate poi il kinkabio per l'appunto ora vi stoppo un momento se azzeccate il mazzo che vi sto per far vedere e non fate il cheat vi mando a casa un bel cuore gigante in qualche maniera perché solo uomini di cultura o donne di cultura conoscono il mazzo 2011 che sto per farvi vedere è abbastanza famoso all'interno del formato però fidatevi che è di un pregio e uno dei miei mazzi preferiti in assoluto per quanto nella realtà mi faccia uno schifo come animali e no sto parlando dei serpenti qua abbiamo un altro indizio appunto potrebbe farvi pensare di quali mazzo stiamo parlando ed ebbene sì i vermi il worm uno dei mazzi più fighi secondo me di sempre di yugi è sottovalutato a schifo qui abbiamo due re due yagan due xx semplicemente perché già ho la monocopia di punto super e questi da due terminal pagati veramente pochissimo quindi sono contento di averli presi un landoisel o lendois o landoas non so quale sia la pronuncia corretta il portaerei vabbè perché non ce l'ho mai avuto altri due levi air e ora cambiamo di nuovo formato perché siamo passati al formato 2014 quindi ha il formato del cappello come si suol dire abbiamo quindi tre mani di fuoco quelle di ghiaccio la prima ordina della scorsa volta in teoria tre cuori bandito ma me ne sono arrivati quattro buon per me un leo un azurais americano bellissimo numero 15 due gelle della dicotomia due corni del paradiso un po' di trap tricks la bella microspia che la sapete è fortissima ora altro curicino secondo curicino questo più piccolo rispetto al primo perché il worm per me è più figo per quanto sia il mio archetico preferito drago sapete che il mio tipo preferito in assoluto sono le mie carte preferite in assoluto vediamo se riuscite a seccare un po' il mazzo in questione anche se abbastanza facile io andrò sempre un pochettino spedito ebbene si abbiamo carte ierati quindi tre come cacchio si chiamava eret efet eset scusate poi tefnuit questo mi ricordo il nome il su che se non sbaglio questo non l'hanno mai ristampato in una realità superiore poverino cioè ci sono tutti ultra tranne i poveri tizi a meno che non non facciano cost from the past 3 e lo fanno lo fanno e dirà ah Stardust c'aveva ragione poi vabbè due di sti cosi che sono praticamente dei tuner gialloni di livello 6 ok poi una ierati vabbè la convocazione ieratica non so il nome anche se hanno sbagliato a inviarmi questa perchè io avevo chiesto solo questa poi due atum una fonceuse e poi vabbè per mitigruler che non è un mazzo che ho giocato in passato però appunto mi interessano i draghetti quindi eccoci qui grazie ragazzulli per aver guardato il video fino a questo punto io sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti soprattutto il retroformat siete un po' old school per quanto riguarda Yugi siete dei vecchiacci di merda no vabbè siete abbastanza vecchi possiamo dire così in merito al al gioco e preferite questa parte appunto del del gioco iscrivetevi al canale supporterete appunto il mio lavoro è gratis non mi costa nulla ma a me fidatevi cambia un sacco quindi grazie ancora e ci vediamo al prossimo video a questo punto see you next time